La cabina è sospesa su Hydro Silent Block, al cui interno è presente un fluido che da solo smorza fino al 40% delle vibrazioni. Un upgrade del comfort può essere ottenuto scegliendo le sospensioni meccaniche cabina, tipica di questa categoria di trattori. Dicefar consente di allestire i suoi modelli con sospensioni idropneumatiche della cabina, che in combinazione con la sospensione della sala anteriore e il sedile a sospensione pneumatica, li pongono a top del livello di comfort. Comfort, che è aumentato grazie al potente impianto di climatizzazione automatica, ulteriormente migliorato rispetto alle versioni precedenti. I specchietti retrovisori, oltre che telescopici, possono essere dotati di luci di cortesia LED e essere riscaldati per agevolare l'accesso o l'uscita dalla cabina in notturna. In cabina sono disponibili due tipi di monitor, da 8 o da 12 pollici, oltre ai quali è possibile aggiungere un ulteriore monitor esterno o un tablet sulla comoda slitta montata sul lato destro. La radio è DAB Plus, con funzione viva voce, e permette l'utilizzo dello smartphone come nell'automobili. Due comode prese USB permettono di ricaricare agevolmente i device di lavoro o personali. Cofano staccato dalla cabina, tappetino fono assorbente e doppio vetro posteriore basso garantiscono un perfetto isolamento termico ed acustico. La rumorosità in cabina è di soli 69 decibel. L'impianta luci LED arriva a una potenza di 50.000 lumen e comprende anche i fare di circolazione stradale. La serie 6 TTV è l'unica ad offrirli. L'impianta luci LED